Amici amici di contatto, abbiamo suonato a Parma, abbiamo suonato a Torino, anzi stamattina a Torino abbiamo suonato E questo è bellissimo perché alla fine sono i vecchi, siamo i vecchi Che da un ventennio, un ventennio, che fanno parte Panc, unione e non competizione, diciamo questa cosa Si dice vecchio, si dice giovani Perché a un ventennio, un moved fram формalità, non competisce ne ha Thankfully, non poter Ma behaviorale, come pianсте! Per avere la mia aub �. Ma per avere la mia aub. Andrea! Grazie a tutti. 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 Grazie, 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 grazie.